Ciao, sono Roberto Gualdi, sono qui per parlarvi della linea Z3 di Piatti Zillian, ultima nata in casa Zillian appunto ed è un'evoluzione della linea Z, nata alcuni anni fa appositamente per rock e per metal. Questa terza generazione, pur mantenendo potenza e volume al consueto della linea Z ha maggior versatilità e un maggior sustain, quindi possiamo ottenere la nota timbrica Z più ricca ed anche a dinamiche più basse. Per quanto riguarda il piatto ride, in questa nuova linea Z3 abbiamo quattro possibilità, diametro 20 e 22 pollici e spessore heavy e medium heavy. La campana di questi ride è più grande e questo permette un suono più potente definito. I crash della linea Z3 sono presenti in tutti i diametri dai 16 a 20 pollici. Per quanto riguarda lo spessore abbiamo due possibilità, medium che presenta sicuramente maggior sustain e una nota di intonazione leggermente più bassa e rock che ha un attacco maggiore e una nota leggermente più alta. Per quanto riguarda il piatto forse più importante di qualsiasi accompagnamento rock, cioè l'i-hat, abbiamo quattro possibilità diverse nella linea Z3. Abbiamo un diametro 14 pollici e un diametro 15 pollici e tutte e due sono disponibili nella versione Master Sound, quindi il piatto inferiore è ondulato. Questo fa sì che l'aria possa uscire più agilmente e il Cic risulti molto più definito. Per quanto riguarda gli effetti, nella linea Z3 troviamo uno splash da 12 pollici e un altro rain contrastato dell'heavy metal che è il piatto China. Questo China è disponibile in due diametri diversi da 18 e da 20 pollici. La linea Z3 presenta inoltre due interessanti variazioni in tema di ride. Abbiamo un trash ride da 19 pollici che è perfetto per ottenere veramente un muro di suono fragoroso e un cosiddetto radio da 21 pollici chiamato Mega Bell. Questo Mega Bell ovviamente ha una campana veramente grande che rende il suono particolarmente definito. Le caratteristiche salienti di questa nuova linea Z3 sono la martellatura simmetrica che rende il suono particolarmente potente e la finitura Brilliant. Questa finitura Brilliant rende sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista estetico la linea Z3 particolarmente brillante. Ziajan Z3.